Nel 2023 l'Inps ha registrato 8.174.923.000 nuovi rapporti di lavoro nel settore privato, esclusi i domestici e gli operai agricoli e 7.651.9709 cessazioni con un saldo positivo di quasi 523.000 posti di lavoro. Lo rileva l'Inps nell'osservatorio sul precariato dal quale emerge che il saldo è positivo per 395.708 unità per i contratti a tempo indeterminato. Il dato del 2023 è migliore di quello del 2022 quando il saldo complessivo fu positivo per 419.487 unità con 331.990 contratti in più tra quelli a tempo indeterminato. I licenziamenti di natura economica sempre nel 2023 raggiungono quota 523.656 con un calo del 6,86% sul 2022. Si riducono anche le dimissioni. Le cessazioni di contratto per scelta del lavoratore rimangono sopra i 2 milioni. Sono state infatti 2.138.104 con un calo dell'1,95% sul 2022.